Buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio di Alice Madness Returns e per l'occasione Buona Pasqua che questa volta quest'anno avrà ben due episodi di Alice visto che coincida anche col mio compleanno bene ovviamente saranno due episodi spezzati perché sennò sarebbe un episodio di un'ora e penso che perfino io non riuscirei a editare tutta questa maestosità di video dove eravamo rimasti ma lo scordo sempre passa sempre troppo tempo fra uno speciale e l'altro eravamo arrivati qui un ponte completerà la strada ma questa sostanza ha bloccato il passaggio puoi aiutarci a rimuoverla? credo di avere lo strumento adatto in cima alla montagna troverai l'entrata alla prossima grotta sacra e si va ovviamente c'è già qualcuno che ci aspetta aspettate il mio cursore del mouse perfetto siamo besti bene 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 come al solito saremo la tegliera perché in teoria è abbastanza più minchia hanno proprio un bel modo di camminare cosa c'è qua? ahah non sapevo che c'era qualcosa no wait ho sentito ahah eri qui come al solito c'è una bella cesta per noi ok qui c'è qualcosa da sbloccare chiaramente per andare sempre più in alto e lei si presenti non l'avevo vista oh oh stunsetti non si comporta non ci si comporta non ci si comporta così non ci si comporta così cattivi siete tutti cattivelli beh su che ti devo pregare oh beh anche tu su su ma quanti se ne formano? ma se ne formano sempre tre alla volta? perché non finiscono più? mi no io non gioco in eterno no ok ammetto che questa parte non me la ricordo tanto bene anzi a dire il vero mi scoccia anche che loro por porca pulana paletta ah e prende anche il danno ma che problema avete ok no 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 ok mi sta scocciando non posso ucciderli perché si riformano ah not so good not so good not so good ecco devo dire che ho perso un po' di manualità manualità pulana pulana eh pulana significa significa che avete rotto i tre quanti di fonchia eh eh basta ho detto basta ho detto basta si formano sti stronzi basta basta grazie tanto dobbiamo aspettare che arrivi che arrivi il blocco giusto scusi si tolga ok ora avete rotto i tre quanti di non posso dirlo è troppo è troppo rude e io devo anche ecco pronti a schivare perché mi stanno arrivando i cosi addosso cioè io devo anche muovermi ok facciamo un po' di pulizie poi forse poi forse poi forse c'è qualcosa che non va con il mio computer e basta dai vicinati godardo oh ok adesso devo trovare il modo di salire lassù oh potreste morire sarebbe bello grazie adesso io quindi devo ritornare indietro con loro che si riformano e che mi sparano che non è una cosa molto good anzi è una cosa molto molto brutta no porca pulana raga quanto è difficile questo punto soprattutto per l'incapace come me che non capisce quando deve scusi solo un attimo grazie adesso adesso venite un po' più vicini dai su vicini a me ah non posso raccoglierlo ah ah minchia ma quanta corruzione c'è in questo punto che si riformano e non finiscono mai ah adesso adesso devo anche cercare di ah non sarà carino no non sarà per niente piacevole ok proprio per niente piacevole dov'è 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 non lo vedo eccolo sta caricando perfetto finché salgono gli altri io con permesso ok in teoria lì c'è qualcosa io vado un attimo a dargli un'occhiata ragazzi ok un ricordo che c'è libera la mente da ciò che è sgradevole Alice rigetta il dolore come faresti con repulsione e depravazione dimenticare è un'arte guarda mi piacerebbe tanto in questo particolare momento ma è un po' difficile dimenticare quando sei sott'attacco beh beh ti ho visto ti ho visto beh si è bloccato mi scusi si sblocchi scusi si si è incastrato ah no non si è incastrato ecco adesso oh la la oh le le oh la 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 ottimo si può salire bene bene tu non mi nascondevi niente c'è niente meglio così che brutto punto comunque dove fare la parte platform e dover stare anche attenti a dove metti i piedi cioè dove fare la parte platform e dove stare anche attenti ai nemici molto brutto molto molto brutto oh qualcosa mi dice che stiamo per incontrare uno scivolo no l'audio ha dei problemi l'audio ha sinceramente dei problemi chi è grato conferisce spesso beneficio alla legge nella sua gratitudine signore mille piedi dell'arco dell'attura il nome le fattori protettore della lune la libertà è così preziosa che la pagherebbero con la vita capisco facciamo una pausina eccoci non mi sento molto al sicuro comunque con c'è un ricordo lì no allora come ho sbagliato grazie ricordo quando papà mi puniva mi calavo dal graticcio il ramo dell'albero crea un ponte e non è un salto enorme non dirlo a nessuna lì io non sarei più mia sorella ah gliel'ha data lei l'idea di scendere dall'albero cioè lo sapevo lo sapeva ah vedi vedi l'amico cosa hanno detto finora della sorella mi sembra che sia morta però a lei non piaceva chiudere le porte cose del genere ok di qua non si può andare qui c'è qualcuno porta nascosta continua non sentimi sicura a saltare da un ventaglio all'altro eccoci qui ok non sembra proprio una bella senza situazione mi sta venendo sensazione no proprio per niente è bello ehi cos'è sono queste fiamme che arrivano fin qui dove l'ho stregato ma ma mi dava lo stregato osserva impara e reagisci minchia è stato posizionato proprio male ok wait ok viene di qua poi a parte che io volevo trovare un modo per non c'è un modo porca pulana se l'ho evitato no oh porca tealallega tealallà ok al fuoco dice al fuoco salvati svegliati Lizzy Lizzy apri la porta la chiave Lizzy apri la porta brucerai viva oh mio dio ok non sembrava una bella situazione cosa c'è di qua ah c'è ah siamo subito qui bello bello mi stavo persa qualcosa per strada ma almeno abbiamo un ricordo e soprattutto penso di aver utilizzato un bug facciamola velocementissimo non c'è più tempo infatti sopravvivere al tempo no perché perché come si fa a sopravvivere al tempo con questi presupposti ma devo solo sopravvivere ah ottimo Alice non c'è schiare hai già perso il treno bene ok dai ragazzi cerchiamo di ah mio dio di baggare siamo un'eternità che siamo in questo livello è arrivato il momento di tagliare un po' porca pulana ok si va di qua poi ci si rimpicciolisce non ci si bagga ok controlliamo un attimo bene la situazione cosa devo fare lì si di là si va dal bucalifo che oh ok direi che ho perso una leva si avevo perso qualcosa per strada infatti aha no aspetti vabbè vabbè passiamo da un da un pericolo mortale a un altro bene scusi minchia che c'è anche qui ah no qua è solo chiusura oh mio dio sono tutti così oh scusi mi scusi chi le ha dato il permesso di mettersi in mezzo oh ok oh che era sta imboscata eh state calmi mamma mia mi stavo ancora guardando intorno ok scusi grazie è stato molto gentile allora la porta non si è ancora chiusa c'è una porta qua dietro no non c'è una porta qua dietro ci sono altre trappole tante altre trappole per arrivare lì ok va bene ho capito vado di qua e basta bene comunque cosa ci fosse lì non mi interessa oh no oh bottiglia mamma mia ok oh no 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 ovviamente ragazzi ovvio c'è abbiamo dei problemi tecnici anche con i capelli di Alice ok ok stai calmo stai calmo ok ah tutto questo per raggiungere il bellissimo portone che c'è lì e che ha un'apertura grande quanto un buco porca pulana che pessima sincronizzazione no di nuovo si è chiuso che bel livello proprio un bel livello ragazzi ok ok ce l'abbiamo fatta oh un disegnino che carino oh ok dai vada per il disegnino e attraversiamo i disegni come si attraversano gli specchi i belligeranti senza alcuna causa o scopo abusarono e uccisero le loro pacifiche vittime che odiavano solo perché diverse gli invasori corruppero un mondo vivo gli egregati non potevano comprendere la spietata brutalità eppure resistettero cercando di placare gli oppressori e recuperare il passato i crudeli intrusi attaccarono a intervalli invece di ucciderli tutti in una volta i miserabili sopravvissuti soffrirono in perpetuo terrore esiste destino peggiore che tristezza dai fosse così semplice farli fuori oh no devo scendere porca pulana ok tutto da un lato bell 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 on this è andata a sbattere continua a crollare tutto bene dai vi prego voglio finirlo sto livello dimmi che c'è il cacchio di brucaliffo alla fine cioè i primi livelli duravano niente ci facevo mezz'ora sopra ed erano finiti no vabbè forse mezz'ora no però duravano molto di meno ovviamente adesso uscirà qualcosa ah sei sempre tu sai pensavo fosse qualcosa di nuovo non so addirittura due beh ragazzi io lì vedo un bellissimo puzzle forse siamo vicini dai va bene dai facciamo che dei denti mi distraggo con poco beh dai diciamo che qua facciamo una piccola pausa nel senso che chi vuole chi riesce insomma poi va direttamente al secondo video e chi non riesce non fa niente ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao